Buongiorno a tutti, un breve flash dalla sala Meteo per vedere come sta evolvendo la situazione sulla nostra regione in particolare. Notiamo la presenza di molte nubi ancora sulla Toscana, nubi che sono anche abbastanza compatte. Se allarghiamo il nostro sguardo sull'immagine nell'infrarosso notiamo ancora una volta come l'estensione del corpo nuvoloso e l'assenza in Toscana di fulminazioni. Si hanno però delle piogge, precipitazioni a carattere sparso, l'immagine della Rada ci aiuta a localizzare le precipitazioni in atto sulla nostra regione, sono fenomeni estremamente localizzati in questa fase della giornata. Resta una situazione però ancora fortemente instabile, la situazione che ci mostra questa mappa relativa alla previsione alle ore 2 di oggi pomeriggio ci mostra ancora una ferita sul Mediterraneo centrale e una circolazione complessivamente depressionaria. Quello che ci attendiamo nelle prossime ore è comunque la possibilità di sviluppo di celle convettive e quindi ancora una volta nel pomeriggio di oggi non mancheranno fenomeni a carattere di rovescio o breve temporale. C'è da dire che in questa situazione qui risulta estremamente difficile localizzare il fenomeno quindi le aree della Toscana sembrano quasi equiprobabili per la possibilità di rovesci o temporali. Un saluto a tutti!